Il tuo consulente agrometeo di Dalbamirondo su Angro notizia il tempo previsto nei prossimi 10 giorni all'incirca fino al 23 di gennaio. Prosegue un inverno ancora molto dinamico, anzi l'inverno proprio nei prossimi giorni darà luogo all'ondata di freddo più intensa dall'inizio della stagione. Questa dinamicità è dovuta al fatto che il vortice polare, quel lago di aria fredda che sta entro il circolo polare, è stato scatapultato al di fuori del circolo polare verso il lato europeo e è suddiviso in due o tre spezzoni i quali viaggiano alle medie latitudini da ovest verso est colpendo ora il Nord America, ora l'Europa e ora l'Europa soprattutto centro orientale. Quindi avremo tre fasi, una tra il 14 e il 18 quando il freddo raggiungerà il valore massimo e sarà l'ondata di freddo più intensa dall'inizio dell'inverno, porterà però poche piogge, almeno ad oggi sono previste poche piogge, soprattutto sulle regioni del basso tirreno, debole nevicate sulle Alpi occidentali, sull'Appennino, su tutto l'Appennino da quello emiliano fino alla Calabria fino a quote molto basse, direi fino a 100-200 metri soprattutto sull'Appennino centro-settenzionale. Potrà nevicare anche sulle zone pedemontane dell'Emilia, nelle zone interne della Toscana, dell'Undia, delle Marche, della Bruzza, del Molise e nel Gargano. Tra il 19 e il 20 di gennaio ritorna temporaneamente in alta pressione, temperatura in rapida risalita, bel tempo, forte gelate di notte al mattino, ma tra il 21 e il 23 di gennaio arriva un'altra ondata di freddo, questa volta non proverrà dal mar di Barents, il mare prossimo alla Russia, quindi non sarà proprio aria artica come nella prima ondata, ma aria polare marittima, perché proviene dalla Corella Anglia, attraversa tutto l'Atlantico e quindi si modifica e si mitizza un po' durante il percorso. Avremo piogge su tutta l'Italia, tranne la Valpadana centrale, nevicate su tutto l'Appennino e anche sulle Alpe, ma fino a bassa quota inizialmente, tra il 22 e il 23 inizialmente, perché le corrente meridionali di aria umida scorreranno al di sopra del coscinetto di aria fredda lasciato dalla precedente perturbazione. Per quanto riguarda le temperature, queste appunto supereranno un crollo tra il 14 e il 16 su tutta l'Italia, un crollo di 7-8 gradi, per poi risalire tra il 19 e il 21 e di nuovo scendere, seppure di poco, tra il 21 e il 23. Pensiamo che, almeno i modelli prevedono, che il giorno 16, la giornata più fredda, le temperature a 1500 metri possono essere intorno a meno 7-8-9 gradi, soprattutto sulle regioni adriatiche, con temperature massime al suolo sotto 10 gradi su tutta l'Italia, e non più di 5 gradi sul nord Italia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.